Siamo qua, sono denutriti, sono affamatissimi, ecco l'altro, ci sono da mangiare, secondo me neanche basta perché si sono spazzolati tutto, e si hanno messi abbastanza male, ci hanno la coda tra le gambe alcuni, non so se li vedi bene, comunque non mi piace proprio la situazione. Grazie a tutti.